Cari amici, cominciamo questo nostro incontro settimanale avendo avuto nelle scorse giornate delle decisioni impegnative da parte del Governo nazionale. L'Italia è ripartita, si è deciso di avviare la mobilità su tutto il territorio nazionale, sono state avviate in pratica quasi tutte le attività economiche, l'Italia si è rimessa in movimento. Per quello che ci riguarda oggi parliamo avendo dentro di noi una grande soddisfazione. Sapete che nella giornata di ieri per la prima volta dopo tre mesi in Campania non abbiamo registrato neanche un contagio, zero contagi. Ovviamente è un risultato straordinario anche dal punto di vista simbolico, che ci dà coraggio, ci dà fiducia. Non c'è ovviamente da illudersi, noi avremo sicuramente nei prossimi giorni l'individuazione di uno, due, quattro, tre contagi. Continueremo la nostra campagna di screening su alcuni settori in particolare. Abbiamo deciso per esempio di fare uno screening oggi sulle commissioni scolastiche che saranno impegnate per gli esami di Stato. vogliamo dare tranquillità alle famiglie, agli studenti. Avvieremo nell'ultima fase di agosto, inizio settembre, uno screening di massa su tutto il personale scolastico. Campania sicura, scuola sicura, faremo credo oltre centomila test rapidi e quindi è prevedibile che ci sia qualche caso qui e lì che venga fuori. Ma la cosa importante è che non abbiamo più nessun focolaio in Campania e quindi aver avuto per la prima volta zero contagi in Campania è qualcosa che ci riempie di grande soddisfazione, perché vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. E per questo voglio ringraziare di cuore i nostri concittadini per i sacrifici che hanno fatto, per aver rispettato le regole, per averci dato fiducia, dato fiducia, per aver capito che quando prendevamo decisioni era nell'interesse della nostra comunità. Vedete, la Campania si è salvata per tante ragioni, per l'impegno dei nostri concittadini, per il lavoro straordinario di medici, infermieri, personale sanitario, ma anche perché abbiamo avuto il coraggio di anticipare in qualche caso di 15 giorni decisioni che sono state poi prese e seguite dal Governo nazionale. Noi abbiamo avuto il coraggio di chiudere quando in altre parti d'Italia si facevano feste in piazza e brindisi all'aperto. Noi abbiamo chiuso e abbiamo quindi fatto un lavoro di prevenzione che si è rivelato decisivo per bloccare l'epidemia di coronavirus nella nostra regione. Allora, oggi camminiamo davvero a testa alta come regione Campania. Possiamo dire davvero che siamo la regione che ha dato la prova più alta di efficienza, di concretezza, di capacità amministrativa. Lo dico con sobrietà, ma anche con orgoglio, perché davvero abbiamo fatto un miracolo. Ed è un miracolo doppio, ricordiamolo sempre, se teniamo conto del fatto che eravamo appena usciti dal commissariamento, che continuiamo ad essere la regione d'Italia che riceve meno risorse da parte di tutti, che ancora un mese e mezzo fa ho dovuto alzare la voce, diciamo così, perché non arrivavano in Campania, non dico i tamponi, non dico i reagenti, ma non arrivavano neanche le mascherine di protezione per gli operatori del 118. È stata una guerra. Bene, oggi possiamo guardare con fiducia al futuro, senza abbassare la guardia. Ve lo ripeto, avremo sicuramente altri casi qui e lì, ma non avremo più focolai. Occorre mantenere alta la guardia, rispettare le regole, essere attenti ai nostri comportamenti. Vi avevamo detto che non avremmo perduto un minuto di tempo rispetto all'obiettivo che abbiamo, aprire tutto, aprire tutte le attività economiche, cioè arrivare a una normalità piena, aprire tutto, ma per sempre, cioè avendo realizzato condizioni di sicurezza ragionevoli, per non aprire e poi chiudere dopo una settimana. Oggi mi pare che ci siano le condizioni per fare nuove aperture di attività economiche, per rilanciare ancora di più il nostro turismo. Ieri sono stato a Santa Maria di Castellabate, abbiamo assunto quella mattinata come una mattinata simbolo, perché partivano i lavori per la messa in sicurezza del porto di Santa Maria di Castellabate, ma anche perché, oltre che la partenza di un'opera pubblica, ricordavamo anche la partenza della stagione turistica, in una zona bellissima della nostra regione, ricca di bandiere blu, cilento. Il sindaco di Santa Maria mi ha raccontato che vi era il tutto esaurito negli alberghi di Santa Maria di Castellabate, una presenza anche di tedeschi, richieste di prenotazione di tedeschi. Bene, ci sono tutte le condizioni davvero per ripartire anche con il nostro turismo e ripartire, come dire, valorizzando due cose, la bellezza dei territori e il fatto che la Campania è una regione sicura dal punto di vista sanitario. Cosa decisiva oggi come oggi. Ho fatto una visita all'ospedale di Agropoli, che era stato chiuso nel 2013, noi lo abbiamo riaperto e nel mese di giugno riaprirà pienamente con il suo pronto soccorso. Bene, riparte in qualche modo tutta la Campania. Siamo sereni, abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo contenti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato fiducia e ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo continuare così, con grande tranquillità. Ovviamente la fase 2 che si è aperta, che per noi ha presentato, ripeto, questi momenti di grande soddisfazione. Anche ieri non abbiamo avuto nessun contagio nel focolaio di Ariano Erpino, una soddisfazione ancora più grande. L'apertura della fase 2 ha significato per tanti in Italia tornare alle vecchie abitudini. Ci sono soggetti che non si sono visti per due mesi, si erano nascosti, che sembrano ritornare sulla scena per farsi un po' di pubblicità. Ci sono settori del mondo dell'informazione che sono tornati alle vecchie cattive abitudini, la principale delle quali è quella di non fare informazione, ma fare campagne di aggressione mediatica. Ne approfitto per darvi una comunicazione che varrà anche per il futuro. Nel corso di questi due mesi voi non ci avete sentito fare polemiche nei confronti di nessuno, tranne che nei confronti di quelli che non ci mandavano i tamponi, le mascherine, o nei confronti del governo per i soldi che deve dare doverosamente. Non ci fanno nessun regalo, sono soldi nostri, alla campania, sia per la sanità sia per altre vicende che riguardano il Ministero dell'Economia. Ma non abbiamo fatto nessuna polemica con nessuno. Per due ragioni. La prima che ho spiegato ai miei collaboratori, quando vi sono problemi seri da affrontare, in qualche caso problemi drammatici, non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo puntare ai risultati, non alle polemiche. E la seconda ragione è che la tecnica che adoperano alcuni soggetti è quella di fare provocazioni continue per farsi pubblicità. Devo dire che anche a Napoli c'è qualche soggetto che è un'assoluta nullità, che pensa solo a fare polemiche e provocazioni per cercare di strappare qualche articolo di giornale. Noi non perderemo un minuto di tempo nei confronti di soggetti che rappresentano ormai più che un problema politico, un problema psichiatrico, ma non in senso metaforico, veramente un problema psichiatrico. Così come non perderemo tempo nei confronti dei protagonisti di campagne di aggressione mediatica. Voi non lo sapete, ma zitti zitti in questi due mesi e mezzo noi abbiamo già fatto come Regione Campania sei querele per diffamazione. Non ne abbiamo parlato e non ne parleremo. Ma siate sicuri che quando vedete qualche porcheria sugli organi di stampa, sugli organi di informazione, state assolutamente certi che un minuto dopo arriva la guerra e la pardiffamazione. Ma in silenzio, senza fare pubblicità gratuita a nessuno. Lunedì scorso vi è stata un'altra trasmissionaccia per la quale le nostre querele arriveranno a otto. Ne faremo altre due in relazione a quella vergognosa campagna di aggressione mediatica su una rete della televisione pubblica con dei falsi, vergognosi e clamorosi. Una doppia denuncia perché in quel caso andremo sul piano penale, ma anche, abbiamo imparato pure questo, sul piano civile, cioè del risarcimento. Del risarcimento. Ora, in ogni paese civile del mondo, un sedicente giornalista che dà una notizia clamorosamente falsa rispetto ad un ASL, verrebbe licenziato dopo cinque minuti. In Italia, in Italia. Ripeto, viviamo, come ho detto altre volte, in un contesto da circo equestre, per cui ognuno pensa di fare quello che vuole. Siamo un paese nel quale si confonde per giornalismo di inchiesta quello che in altri paesi si chiama violenza privata o semplicemente cafoneria. Allora, dopo la trasmissionaccia di lunedì scorso, partiranno ovviamente altre querele. Mi pare evidente. Voglio chiarire che per quanto riguarda l'ASL a Napoli 1, l'ASL a Napoli 1 sarà per noi una bandiera, sarà una vicenda simbolica di quello che in Italia è la trasparenza amministrativa e di quella che è la strumentalità politica. Pensate, l'ASL a Napoli 1, come tutta la sanità campana, è stata commissariata per dieci anni. Il commissario lo nomina il governo, quindi il commissario è espressione del governo nazionale. Per dieci anni i commissari di governo non hanno visto e sentito niente. È incredibile. Quando ci siamo insediati noi abbiamo cominciato a fare la battaglia per buttare fuori dalla sanità i delinquenti. Abbiamo cominciato a San Giovanni Bosco, dove, lo ricordo ancora, allora era il direttore generale Mario Forlenza. Sono andato perché c'era stata una intimidazione fatta a un primario. Vado nell'ospedale e trovo nell'area interna dell'ospedale e un parcheggio con tanto di sbarra per l'ingresso e l'uscita. Chiedo al direttore generale, ma chi è che gestisce questo parcheggio? Eh, no, ma, come no, ma chi è? Scopriamo che era un delinquente, che si era impadronito dell'area e gestiva il parcheggio. Ci abbiamo messo 24 ore per smantellare tutto e buttarlo fuori. Noi. Non il Ministero dell'Interno, il governo. Noi. Dopodiché abbiamo proseguito con l'attuale direttore generale il lavoro di ripulitura. C'era la gestione dello spaccio interno all'ospedale. Questa gestione avveniva senza gara, proroga su proroga, credo a 12 anni. Nessuno aveva mosso un dito. Il gestore non pagava all'ASL nulla. Bene, buttiamo fuori anche questo signore. Ripuliamo l'ospedale. Due anni fa, nel pieno della battaglia contro i delinquenti, battaglia fatta da noi, non dal Ministero dell'Interno. Ho chiesto, allora era Ministro dell'Interno, tale Salvini, ho chiesto l'istituzione di un posto di polizia dentro l'ospedale San Giovanni Bosco. A tutela anche dei nostri operatori che lavoravano in trincea. Voi pensate che qualcuno abbia mosso un dito? Silenzio assoluto, tutti latitanti. Allora, la vicenda del San Giovanni Bosco e della Napoliono, per noi, sarà un simbolo di quella che è la trasparenza amministrativa nostra e l'ignavia e l'irresponsabilità di quelli che dovrebbero tutelare i cittadini rispetto ai delinquenti. E non lo hanno fatto per dieci anni. Faremo la radiografia degli ultimi dieci anni, altro che commissione d'accesso. Di questo avremo modo di parlare. Ho voluto solo fare questa parentesi per dirvi che noi lavoreremo in silenzio. Mai fare pubblicità gratuita, mai perdere tempo. E non farsi distrarre da queste immense idiozie. Ho ricordato una volta qual è la tecnica di quelli che pensano di farsi pubblicità cercando di litigare con te anche quando tu hai altro da fare. C'è una poesia, che vi ripeto ancora una volta, di Trilussa. Sono due ricche. Si chiama la lumachella della vanagloria. Cioè c'è una lumaca che striscia sopra un obelisco e immagina che per questo solo motivo si carichi di valore storico, come l'obelisco. Dice Trilussa, la lumachella della vanagloria che era strisciata sopra un obelisco guardò la bava e disse già capisco che lascerò un'impronta nella storia. Cioè ci sono tante lumache che pensano di strusciarsi, di fare polemiche e pensano che in questo modo si danno un'importanza. Somari sono, somari restano. Nullità sono, nullità restano. Chiudiamo la parentesi e pensiamo alle cose serie. Ho perso qualche minuto per dirvi che anche per il futuro ci troverete silenziosi di fronte a tutte le porcherie e le aggressioni mediatiche che oggi trovano un motivo in più. Ma questa volta non nell'inefficienza. Oggi cercheranno di colpirci per la troppa efficienza che abbiamo dimostrato. Perché nessuno si aspettava che la Campania oggi potesse presentarsi come la regione più efficiente d'Italia. pur avendo avuto i mezzi più ridotti rispetto a tutte le regioni d'Italia. Bene, chiudiamo dunque questa vicenda. Ho fatto solo un appunto ai miei collaboratori perché la trasmissione era lunedì. E lunedì in contemporanea c'era niente di meno che il film L'ultimo Samurai con Tom Cruise. Ma come si fa ad essere così masochisti da andare a vedere la trasmissionaccia anziché vedere l'ultimo Samurai meraviglioso, coinvolgente, che meraviglia. Valga per il futuro. Non siate così depravati da perdervi appresso alle scemenze. Sanità ed economia. Dunque per la sanità abbiamo avuto questo bel risultato che ci riempie di orgoglio. Il lavoro che stiamo facendo oggi è questo screening di massa su tutto il personale sanitario medici, infermieri e amministrativi per mantenere l'obiettivo della sanità più sicura d'Italia. Ovviamente quando fai tamponi a decine di migliaia di dipendenti ti esponi al rischio di individuare anche un positivo asintomatico. Ma noi siamo interessati a fare operazioni in verità, non a nascondere anche i piccoli problemi. Noi i problemi li vogliamo risolvere, non occultare. Chiaro? Quindi proseguirà sempre il lavoro di controllo sul personale sanitario. Ma abbiamo deciso anche di fare, dicevo un attimo fa, un lavoro di controllo su tutto il personale scolastico. Cominciamo dalle commissioni di esame, ma poi il grosso del lavoro dovremo farlo alla ripresa dell'anno scolastico. Inutile dirvi quello che penso sulla data delle elezioni. Io continuo a ritenere che il governo, non solo il governo, ma le forze politiche tutte, a cominciare da quelle di opposizione. Abbiamo visto il 2 giugno una sceneggiata messa in atto dalle forze di opposizione, una vergogna. Almeno il 2 giugno in un paese serio parla solo il Presidente della Repubblica, punto e basta. Hanno fatto finta che era una manifestazione patriottica, quella era una manifestazione provocatoria di divisione dell'Italia, altro che patriottica. Lasciamo perdere. Allora, la Lega in questo momento propone di andare a votare il 27 settembre. Siamo alla pazzia. I ballottaggi si dovrebbero fare a metà ottobre con l'epidemia influenzale, con l'anno scolastico che apre, poi chiude, poi riapre. L'ira di Dio. Questa è gente che non ha rispetto né per la scuola, né per gli alunni, né per i docenti, né soprattutto per le famiglie. Perché una famiglia ha il sacrosanto diritto di organizzarsi la sua vita in maniera serena. Non è che vede l'apertura, la chiusura, la riapertura. Cose da pazzi. Ancora oggi non abbiamo possibilità di fissare la data del voto. In Campania cercheremo ovviamente di non far coincidere, di non sovrapporre elezioni e apertura dell'anno scolastico. Perché questo veramente sarebbe demenziale. Prepariamoci ad una campagna di massa per le vaccinazioni. Sopra i 65 anni dovrà essere obbligatorio. Ve lo ripeto, i sintomi che hanno le malattie influenzali sono più o meno come quelli del Covid. e quindi noi ci stiamo preparando anche per fare decine di migliaia di test rapidi per distinguere da subito influenza da Covid-19. Ci sarà un lavoro enorme da fare per le scuole, per l'epidemia influenzale e quant'altro. Prepariamoci e cerchiamo di collaborare ovviamente perché tutto vada per il meglio. Per il resto dal punto di vista della sanità stiamo lavorando ovviamente per una ripresa di attività normali negli ospedali e soprattutto per realizzare finalmente una rete vasta di medicina territoriale. L'ultimo capitolo piano socio-economico della regione Campania. Vi ricordo ancora una volta che fra i tanti motivi di orgoglio che dobbiamo avere tutti noi cittadini campani napoletani e che siamo l'unica regione che ha varato un piano di aiuto socio-economico alle imprese ai professionisti alle famiglie ai pensionati. Non lo hanno fatto neanche le regioni ricche la Campania lo ha fatto e la cosa straordinaria che ci dà soddisfazione potremmo perfino sfottere qualche nostro concittadino del nord e che quello che abbiamo deciso lo abbiamo realizzato in tre settimane. I soldi sono arrivati davvero. Un aggiornamento. Ieri finalmente ci sono stati consegnati dall'Inpsi dati per le gestioni separate e per la cassa forense mancavano 10.000 pagamenti da fare. Mancavano per questo motivo i 1.000 euro per i professionisti. Quindi dalla prossima settimana completiamo tutti i 62.000 pagamenti. Siamo già a 50.000 ma per questo motivo non ci arrivavano i dati. Per quello che riguarda le imprese completiamo con gli ultimi 10.000 contributi siamo arrivati sui 130.000 richiedenti 130.000 piccole imprese a 120.000 mandati di pagamento. È stata una cosa davvero straordinaria che abbiamo fatto. Per le famiglie con bambini al di sotto dei 15 anni abbiamo deciso un bonus abbiamo già fatto i primi 26.000 mandati di pagamento. Ogni settimana altri 20.000 mandati di pagamento. Per i pensionati al minimo come sapete unica regione d'Italia abbiamo raddoppiato la pensione al minimo per i primi per il mese di maggio per 230.000 pensionati al minimo che sono passati da 450 euro più o meno a 1000 euro. La stessa cosa avverrà per il mese di giugno ma si può non essere orgogliosi di questa iniziativa oltre che dell'efficienza mostrata nel realizzare le cose decise. Per il piano per il lavoro noi completiamo in questo mese le prove concorsuali per quelli che hanno fatto ricorso sono stati riammessi non la faccio lunga fra fine giugno e inizio luglio cominciano a lavorare 2500 giovani che hanno partecipato al concorsone della regione campania cominciano ad andare sui comuni stiamo verificando alcune cose che riguardano la possibilità di avere un distacco per chi già un lavoro e vuole avere come dire un livello superiore per ragazze e ragazzi che sono stati selezionati ma non ci sono ancora i posti nella misura sufficiente noi riteniamo che debbano essere inviati comunque al lavoro sono dettagli che spiegheremo direttamente agli interessati la sostanza 2500 ragazze e ragazzi vanno a lavorare in 240 comuni della campania e presso le corti d'appello di napoli e di salerno alla fine dell'anno faremo un altro concorso finché non arriveremo a 10.000 posti di lavoro per i giovani della campania infine abbiamo detto alcune settimane fa riaprire tutto riaprire per sé sempre ho anche aggiunto noi non perderemo un minuto di tempo quando avremo condizioni di tranquillità sanitaria oggi abbiamo una condizione di maggiore tranquillità sanitaria e soprattutto abbiamo avuto una decisione del governo che ha aperto la mobilità in tutta italia quindi diventa sinceramente assurdo tenere delle chiusure mentre si muove il mondo intero allora nella giornata odierna credo fra pochissimo sarà pubblicata sul bollettino una nuova ordinanza vi anticipo un po' i contenuti abbiamo deciso che da questa sera possano ripartire le attività dei cinema all'aperto dei drive-in per quanto riguarda i bar sarà possibile l'attività di musica di intrattenimento senza ballo non sarà sconsentito ovviamente la collocazione di amplificatori fuori dei locali o di musica fuori dei locali per evitare assembramenti prolunghiamo l'orario di apertura dei bar fino alle due di notte ma manteniamo il divieto di vendita di alcolici per asporto chi si siede al tavolo o va al banco nessun problema ma manteniamo alle dieci di sera l'orario consentito per vendita di alcolici e superalcolici per asporto ricordo un dato che per me è impressionante prima del covid noi abbiamo avuto nei mesi precedenti al cardarelli 37 ricoveri per intossicazione alcolica e per coma etilico 20 di questi 37 ricoveri riguardavano bambini dagli 11 anni ai 17 io penso che sia un dato che debba debba far maturare una consapevolezza nell'animo di ognuno di noi oltre che dei padri e delle madri di famiglie un bambino di 11 anni che va in coma etilico è una tragedia ma si può rischiare la vita per il consumo di superalcolici allora lo ripeto la movida è un'attività bella l'incontro fra i giovani la gioia di vivere l'allegria per l'amor di Dio dobbiamo favorirla ma dobbiamo anche fare di tutto perché tutto questo avvenga all'insegna della serenità della tutela della vita ai nostri ragazzi così come credo che dobbiamo dare una mano anche agli operatori commerciali che sono impegnati nelle attività serali e notturni per l'amor di Dio è un comparto anche questo economico turistico credo che avremo gli incontri nei prossimi giorni anche con questi operatori per stabilire insieme delle regole che ci aiutino a vivere anche la movida in maniera civile senza atti di bullismo senza violenza senza logiche di branco come avviene in tante città d'Europa nelle quali ci si diverte in piena serenità e rispettandosi questo è tutto allora prolunghiamo fino alle 2 l'orario nei fine settimana diamo respiro alle attività anche dei bar dei pub ma manteniamo alle 10 l'orario ultimo per vendita d'asporto di alcolici musica dentro i locali sì perché ci sono anche gruppi giovani lavoratori che sono impegnati anche l'attività musicale va bene anche questo per quanto riguarda i trasporti sulle isole avevamo limitato ai traghetti oggi non ha più senso quindi l'arrivo sulle isole sarà libero faremo dei controlli a campione per quanto riguarda la temperatura o test rapidi si sta ragionando a livello nazionale sulle attività che riguardano i cinema i teatri c'è una soglia fissata a livello nazionale di 200 spettatori per i teatri e per i cinema manderemo una lettera alla presidenza del consiglio per chiedere che sia rivista questa norma perché tu hai dei locali che hanno 3.000 spettatori hai palatenda palapartenope non ha senso equiparare chi ha 3.000 posti e chi ha 500 posti quindi credo che debba essere presa una misura più flessibile però siccome è in discussione a livello nazionale evitiamo di prendere oggi decisioni che possono creare confusione consentiremo invece le attività congressuali se si vuole prenotare un convegno credo che debba essere consentito deve essere assolutamente consentito per i congressi ripeto attendiamo l'orientamento nazionale questo per stasera quindi a cominciare da stasera a cominciare dal lunedì prossimo consentiamo la riapertura delle aree gioco per i bambini ripartono i servizi per l'infanzia e l'adolescenza anche i centri estivi per i bimbi nella fascia da zero a tre anni ripartono anche i campi estivi anticipiamo di una settimana l'apertura di attività di wedding i matrimoni l'organizzazione dei matrimoni e di cerimonie consimili dalla prossima settimana ho detto si possono cominciare a prenotare convegni per i prossimi mesi partono i servizi per la montagna i servizi delle guide turistiche insomma mi pare che riparta un po' tutto nel frattempo abbiamo deciso di fare un altro bando per dare un aiuto economico agli alberghi ai bed and breakfast veramente ci stiamo dissanguando come regione campania daremo un aiuto agli alberghi fino a 7.000 euro per gli alberghi di categoria superiore un aiuto ai bed and breakfast registrati alle camere di commercio non possiamo arrivare a tutti è davvero uno sforzo enorme sicurezza sanitaria tranquillità per le famiglie ma anche riavvio dell'economia il lavoro da oggi in poi deve essere una delle priorità alle quali lavorare il lavoro e già lo sforzo che abbiamo fatto con il piano socio-economico è una cosa unica nel nostro paese avremo dunque incontri con le categorie nelle prossime settimane cercheremo di stare vicino e di aiutare tutti i nostri operatori economici finisco dobbiamo essere consapevoli che il problema non è risolto stiamo respirando riprendiamo le attività economiche ma dobbiamo sempre essere consapevoli che il problema è dietro l'angolo voglio dirvi con grande chiarezza tutta una serie di prescrizioni lasciano il tempo che trovano il governo per esempio ha preso delle decisioni che riguardano le spiagge libere il presidente dell'Anci l'associazione dei comuni De Caro una persona seria giustamente ha protestato si scaricano sui comuni cose che non possono essere gestite come fa un comune a garantire il distanziamento la sicurezza sulle spiagge libere ora è evidente che non ci potrà essere un carabiniere un poliziotto un finanziere davanti a ogni locale davanti a ogni spiaggia è evidente che da oggi in poi sarà decisivo l'atteggiamento l'atteggiamento e il senso di responsabilità di ogni nostro concittadino questa sarà la garanzia migliore e in qualche caso l'unica garanzia di sicurezza per il futuro allora io mi permetto di fare appello ai nostri concittadini abbiamo fatto tanti sacrifici avete dato un grande esempio di rigore di tenuta di impegno civile continuiamo così verificheremo le prossime settimane anche l'uso delle mascherine fermo restando che per i locali all'interno per le attività commerciali rimarrà obbligatorio così come sarà importante tenerle sempre anche quando non sarà obbligatorio l'ordinanza nostra scade a metà giugno vedremo le decisioni da prendere ma intanto per la nostra tranquillità cerchiamo di essere prudenti sappiate che da oggi in poi quello che succederà non dipenderà dalle ordinanze e neanche dalle forze dell'ordine dipenderà dal senso di responsabilità che ognuno di noi saprà mettere in campo io ho fiducia nel grado di di consapevolezza che i nostri concittadini hanno mostrato e credo mostreranno anche per il futuro un saluto e un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie